Io personalmente non mi occupo più di vaccini visto che ne ho già fatti due quindi sono stato immunizzato allegramente del fatto che non si possano fare i vaccini in vacanza non mi interessa niente perché io in vacanza non vado mai perché sono in grado di rompermi le scatole anche a Milano senza bisogno di andare in montagna o al mare dove peraltro non ho mai messo piede mi dicono che l'acqua sia salata ma io non l'ho mai potuto verificare so che nel mare finiscono le deiezioni di tutto il mondo per cui lascio che altri si immergano in una sostanza che non vuole definire perché non bisogna essere volgare Io nuoto, mi piace da morire, mi ha rovinato l'estate i feltri va bene che cosa